Chiedere è lecito, rispondere è cortesia, ma la lettera del Presidente della Repubblica Mattarella, inviata in risposta agli alunni dell'Istituto Olivetti di Fano, che lo avevano invitato alla loro terza edizione di una serata con i nobili Petrucci, ha lasciato tutti un po' increduli e stupiti di ricevere quotanta attenzione dal Capo dello Stato. A riguardo, mi spiace molto dovervi informare che il Capo dello Stato non può accogliere la vostra richiesta, dovendo rispettare impegni istituzionali già presi per quella data. Certo della vostra comprensione ed esprimendo il più vivo apprezzamento per l'entusiasmo e l'impegno che mettete in questa iniziativa, invio i saluti e gli auguri più cordiali da parte del Presidente Mattarella. L'indomita insegnante Anna Ucci, a cui nulla pare irrealizzabile, assieme ad altri docenti, la preside e tanti alunni in bellissimi costumi rinascimentali, daranno vita ad una full immersion nelle atmosfere che alleggiavano a Palazzo tra il 1500 ed il 1600. Ogni giorno, entrando nella nostra scuola, abbiamo la fortuna di respirare la storia del nostro passato ed è veramente incredibile pensare che i luoghi che noi percorriamo ogni giorno hanno ospitato una famiglia nobile della quale non conosciamo molto, ma che ci piace immaginare e ricordare perché con quei personaggi abbiamo in comune luoghi e tradizioni. Una serata con i nobili Petrucci è più di una rievocazione storica, è un evento culturale con l'obiettivo di affascinare alla storia gli alunni, vivendola da protagonisti e non come esercizio meramente nozionistico e di aprire l'istituto alla cittadinanza. Siamo alla terza edizione di questa rievocazione storica, di questa famiglia Petrucci che ha così abitato all'interno di questo palazzo che noi oggi abbiamo la fortuna di vivere. Comunque quest'anno tra l'altro ci sono anche delle novità nelle partecipazioni perché oltre alla Pandolfaccia che ormai collabora con noi abbiamo l'orchestra da camera Contrarco e invece appunto come novità quest'anno abbiamo il coro giovanile malatestiano diretto appunto da Francesco Santini e l'associazione del pallone col bracciale di Mondolfo. E poi naturalmente abbiamo sempre il nostro Ivan Cottini. Da che ora a che ora vi si potrà venire a trovare? Partiamo alle 16 fino a 19.30, 19-19.30 noi siamo qua e vi aspettiamo numerosi.